Ciao ragazzi, sono un guido locale Luigi, vivo in una piccola città, Sarzana, in Italia. Ora, all'interno c'è un paese bellissimo, la Pone Alps, con le marbre cariche, o la piazza di Lerici e San Terenzo, il grande porto di La Spezia, nel porto di Venere, vicino alle 5 lani. Beh, Google ha dato la grande opportunità per tutti, insieme per una comunità mondiale, e molti persone prendono l'Isae. Ho anche fatto un po' di Google Maps. Un'unica in San Francisco? Good! I believe that gift is an hour for many gays, who have dedicated many hours day free time. I hope to see you soon. Bye bye!